Farò parlare un po' di più le immagini dei dati. Per cercare di avvicinare i mondi, per certi versi, aulici legati alla normativa e poi le maestranze che devono assicurare la prestazione finale all'edificio, dobbiamo tirarci sulle maniche, andare anche noi a fare dei corsi per poi portare, entusiasmare e passare il messaggio agli esecutori veri e propri. Credo che voi sappiate che il blower door test viene fatto mettendo in sottopressione o sovrappressione l'ambiente interno del nostro edificio o dell'abitazione, paragonabile a un vento di circa 30 km all'ora e si va a misurare tutta la perdita di tenuta all'aria. I controlli vanno fatti in corso d'opera perché lì mettere, fare delle correzioni è possibile, fare solo i controlli alla fine. Comunque penso che la normativa abbia recepito perché ci sono due diverse tipologie di controllo. Allora, piano di tenuta all'aria normalmente sul lato caldo verso l'interno, piano di tenuta al vento sul lato freddo. Andiamo oltre. Comunque, perché si deve fare, diciamo, tra virgolette, una introduzione di ermeticità dell'involucro? Ovviamente per risparmiare energia, per evitare i danni alle strutture dell'edificio, si è detto prima, per aumentare il conforto arpitativo, quindi le muffe, le correnti d'aria e i gas che provengono dall'esterno, per assicurare un corretto funzionamento dell'impianto di ventilazione meccanica che in questo caso, parlando di Passive House, è l'unico, tra virgolette, impianto presente per garantire le condizioni di comfort di cui abbiamo detto. Ecco qua, ci sono diversi livelli, forse non si riesce a vedere tanto, comunque... Ecco, il livello della Passive House è un gradino di più di casa clima, richiede 0,6 cubature ora rispetto a un casa clima. Ecco, queste sono le esercitazioni su questo piccolo manufatto prototipo che comunque aveva il foro per la ventilazione, aveva un ingresso e aveva un vano finestra. Ecco, abbiamo iniziato, stando sul ponteggio, a mettere la barriera interna, quindi abbiamo posizionato in prima battuta tutti i teli di polietilene che dovevamo utilizzare, dopo, vedrete nelle immagini, riconoscete anche Davide lì al centro. Sarà protagonista della cosa, beh, ma guardate che in altre culture all'estero, dai giapponesi ai tedeschi, essere sul campo e vedere ci consente di essere veramente i capi degli operai, anche se ci chiamiamo ingegneri o architetti. Va bene, quindi si passa un primer per far aderire bene la membrana, dopodiché ecco questa è una visione dello scatolone, avrei voluto portarvi questa cosa ma l'ho lasciata nel baule a Brescia e quindi va bene, prendete nota tra le altre cose. Noi, avendo anche ospitato l'organizzazione Passive House della Lombardia, abbiamo visto che portavano lì dei materiali, ma ecco, noi non facciamo da sponsor delle marche che vedrete sfilare con tanto di sigle eccetera. Allora, questo è il primer, è passato, bisogna far aderire bene, addirittura c'erano una serie di rulli per far aderire alla scabrosità dell'intonaco la membrana stessa. Ecco, andiamo avanti, abbiamo sigillato con i nastri su tutto il perimetro. Ecco, se troverete una qualche, lo dico soprattutto al mio collega di Reggio Emilia, qualche imperfezione, qua siamo in laboratorio e stiamo insegnando a degli ingegneri, tutti gli altri sono artigiani del settore Vila, erano venuti da un po' tutto il nord Italia, ecco, dopodiché abbiamo posato la struttura linea di sostegno di bordo. Vedete a sormonto dei teli, abbiamo utilizzato queste viti, abbiamo posizionato i travetti, li abbiamo poi fissati, anche qua bisogna fare in modo che queste viti non facciano da trasmettitori di aria e di calore, quindi non devono essere assolutamente né ponti termici né ponti per il passaggio dell'aria. Ecco, vedete qua qualche particolare, ecco poi abbiamo messo l'assito, ecco, al di sopra abbiamo chiuso la membrana, lo troverete una cosa tipo, non lo so, lavori di cartoleria di questo periodo, comunque tutto deve essere assolutamente chiuso e sicillato e non basta, abbiamo dovuto ripassare il primer nei punti di contatto e rinastrare tutto con l'USB tape, in questo caso è di una marca che avrete già individuato, comunque dopo bisogna garantire che questi abbiano un'adesione, quindi non fare 30 finestre in un giorno, perché bisogna correre, ma tutta questa cosa ha fatto sbalordire anche me all'inizio, però c'è bisogno di una cura che un po' le questioni legate all'economia dei lavori eccetera eccetera sembrano esagerate, ma nel caso particolare degli standard richiesti da Passive House, se non si fa così non si raggiungeranno mai. Ecco, quindi vedete poi che la seconda orditura linea viene appoggiata, vengono prese delle distanze e poi viene posato al di sotto del travetto questo nastro, che è un nastro che garantisce anche, è un nastro anti-chiodo, anti-vite, quindi garantisce una tenuta al passaggio di calore. Perché in questo caso, come vedrete, questi devono essere bucati con delle viti per essere solidarizzati al travetto di sotto, quindi in questo caso vanno a bucare il telo di tenuta all'aria, per poter far sì che questo buco sia ammissibile, viene inserito questo nastro, che è un nastro, come diceva Aldo, antibuco, cioè consente la sigillatura intorno al chiodo. Ok? Vai. Ecco, quindi poi qua abbiamo preso le misure per le posizioni in cui poi andranno i travetti, abbiamo messo queste bandelle, abbiamo inserito l'isolante in lana minerale, abbiamo completato l'opera, abbiamo messo i travetti, qua bisogna essere bravi perché la corrispondenza deve essere esatta, altrimenti fa a farsi benedire tutto il lavoro che abbiamo fatto prima. Abbiamo fissato questo, abbiamo completato lo spazio tra i travetti con l'isolante. Ecco qua, avevamo fatto una prova per questo sito finale. Abbiamo steso questa membrana che è di polietilene, poliuretano e polietilene, polietilene e tiene a sandwich il poliuretano e ad alta densità sono 330 grammi al metro quadrato. Ecco, questa cosa poi sui travetti richiede un altro lavoro. Ecco, questa è la presidente di Passive House Lombardia, che prova anche lei. Ecco, vedete poi qua che è stato tagliato in prossimità dei travetti, viene risvoltato verso il basso e poi tutto quanto deve essere nastrato accuratamente. Ecco, qua il discorso del serramento. Ecco, abbiamo messo il controtelaio, qua era tutto buttato verso l'esterno, poi viene integrato dentro il cappotto di grande spessore che Passive House richiede. Comunque, vedete le fasi e vedete anche la parte relativa all'isolamento del davanzale. Ecco, qui ci sono questi angolari con la rete porta in tonaco. Vedete nel frattempo nella figura orizzontale che è stato tutto nastrato. Ecco, viene messa quella famosa, ecco, un nastro autoespandente attorno al telaio della finestra. E poi è stato avvitato con delle viti speciali che non consentono la trasmissione di calore. Ecco, qua vedete il particolare del davanzale interno. Anche lì la membrana che avete visto al di sopra del solaio di copertura viene stesa, raccordata e nastrata accuratamente. Ecco, questo è un prodotto legato alla ventilazione meccanica controllata. Ecco, quindi sono venuti a metà dell'incontro, quindi questo è l'elemento dove alloggiare la ventilazione meccanica. Vedete che aggetta per essere integrato al resto del cappotto esterno. Questa è la visione sul filo interno, dopodiché altra sigillatura su tutto il perimetro per garantire. Alla fine abbiamo concluso l'esperienza nel piccolo del nostro manufatto così pilota, il blower door test. Ecco, quindi abbiamo applicato questa cosa ovviamente su un volume di questo genere ha un significato relativo, ma la nostra attenzione era quella di fare impratichire i futuri addetti. Ecco, l'ultima fase abbiamo applicato il cappotto, ecco, secondo le regole di chi lo fa bene, non di quelli che si improvvisano. Qualche mese fa l'ingegner Diotti ci ha mandato giù una fotografia di un cappotto che è venuto giù completamente, ecco, ma non aveva sicuramente né la francatura perimetrale né i tre bollini. E questo è l'ultimo particolare per il passaggio dei cavi elettrici a tenuta. Hanno mutuato dalla medicina anche queste cose. Comunque vedremo di questi alieni, spesso e volentieri, nei nostri cantieri.